Poetica della passerella 2, il ritorno. Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, un podcast per te. Per te se pensi che abbiamo tutti bisogno di un giardino. Se non lo pensi, allora se ti va prova ad ascoltare qualche episodio e dirmi perché non lo pensi. Così, lasciami un commento qui sotto. Perché Poetica della passerella 2, il ritorno, la vendetta? Perché ne abbiamo già parlato. Qualche episodio fa parlavamo di questo principio secondo il quale noi possiamo utilizzare l'idea e la pratica del mettere una passerella nel nostro giardino per metterci in pausa, per mettere una pausa nel nostro modo solito di affrontare le cose, di vedere le cose, di cambiare un po' la prospettiva e vedere cosa succede nel nostro passaggio, senza metterci davvero i piedi dentro. E secondo me questa poetica, questo principio diventa anche molto interessante da un punto di vista del design, della progettazione e della creazione poi del tuo giardino. Cioè partire nella creazione del tuo giardino, nella modifica del tuo giardino, creando una serie di percorsi che poi tu andrai a riempire. Con cosa le andrai a riempire? Beh, questo è un altro discorso ancora. Ma tu immagina di creare una rete, un reticolo di percorsi all'interno dello spazio in cui tu vuoi vivere la tua vita giardinesca e di creare delle passerelle, dei percorsi. Possono essere delle passerelle sopraelevate e attraverso la scelta della nostra passerella o del nostro percorso si manifesteranno delle cose in modo diverso. Ti faccio un esempio. L'esempio numero uno è che si può utilizzare una griglia di metallo e ognuno di questi di queste soluzioni, come la griglia di metallo, ha delle caratteristiche che possono essere limiti o dei punti di forza interessanti, come vogliamo. Immaginiamo di utilizzare una griglia di metallo. Una griglia di metallo è magari sopraelevarla leggermente rispetto al terreno dove sorge il nostro giardino. Con dei mattoni, con delle strutture, insomma non ti sto dicendo di farlo, sto dicendo di fare un esercizio di immaginazione. Questa passerella quindi sarà più alta del suolo, quindi consentirà all'erba di crescere sotto, con il rischio, o il vantaggio se ci piace, di avere dell'erba che poi viene a spuntare tra le grate. Questo può essere molto interessante perché da un lato può dare un aspetto molto moderno al giardino, ma anche un po' informale. Può essere un'idea di design interessante se pensata per bene, soprattutto perché lascia spazio tra i tuoi piedi e il terreno e ti sopraeleva un po' rispetto al suolo e quindi rientra nella poetica della passerella perché ci cambia la prospettiva. Cambia la prospettiva e in qualche modo ci fa vedere le cose in modo diverso. Consente alle piante delle nostre aiuole di crescere anche sotto la nostra passerella e magari sbucare dall'altra parte. E questa potrebbe essere una cosa interessante. Uno svantaggio può essere che magari riesco a trovare solo griglie rettangolari e quindi devo avere per forza questa forma, ma anche questo può essere un punto di forza. Posso utilizzare come soluzione numero due del mulching ad esempio, del pacciame se vogliamo, che può essere del tritato, magari io ho un biotrituratore, tu hai un biotrituratore con cui tagliuzzi, sminuzzi le cose il materiale vegetale che viene potato a casa tua, delle aiuole, degli alberi e potresti poi se è tanto utilizzarlo per fare dei percorsi. Viene fatto per gli orti ad esempio e è molto affascinante, molto bello. Da un punto di vista estetico è quasi magico perché vedi questo percorso che col tempo viene compattato, si inumidisce e chiaramente uno degli svantaggi è che col tempo poi viene trasformato in materia organica, non è più inerte almeno allo sguardo, ma si tratta di materia organica che si decompone, quindi va ad arricchire il substrato di suolo al di sotto del quale c'è questo pacciame che ho disteso e quindi poi dovrò aggiungerlo. Posso farlo con del tritato, posso farlo con della corteccia, volendo potresti farlo anche con delle conchiglie. Non oso immaginare dove potresti prendere tante conchiglie, però spero che tu non vada in giro a farlo. Però insomma sono tutte cose che si possono fare. E una delle cose interessanti dal punto di vista delle soluzioni che può portare a trovare è che è un materiale estremamente naturalistico, esteticamente parlando, e quindi si mescola bene con qualunque tipo di soluzione per un giardino poco geometrico e molto naturalistico, molto spettinato che vogliamo avere. C'è una qualche, come dire, c'è un qualche richiamo a un giardino inglese di campagna se vogliamo, o un giardino di campagna in generale dove è possibile giocare, correre. Una soluzione successiva potrebbe essere quella di usare delle pietre, delle vere e proprie pietre e quindi usare un diverso tipo di pacciame che è davvero inerte in questo caso. E a quel punto che tipo di pietre utilizzi, delle pietre grandi, delle pietre piccole, della graniglia, delle pietre frantumate, del brecciolino, della ghiaia, molto spesso vengono usati i sassi e troppo poco spesso vengono usati con, come dire, con creatività. Ho l'impressione che tante volte venga comprato il primo tipo di ghiaia che si trova, magari perché è quello più diffuso, la ghiaia di fiume, quella chiara, no? Potrebbero esserci tante soluzioni, magari è quello più facile da trovare, magari è una soluzione che si ritiene essere la più economica, almeno nella propria zona, ma se io voglio poi avere affetto per il luogo in cui questo è giusto trovare delle soluzioni che si sposino con il luogo in cui mi trovo. Quindi di solito se utilizzo della pietra è bene utilizzare della pietra locale perché ci sta bene, di solito non è una questione etica, è semplicemente una questione di colori volendo, oltre che chimica, oltre che di suolo. Estendendo uno strato adeguato di sassi farò in modo che non crescano piante e cosiddette erbacce tra questi sassi. Certo, dopo un po' qualcosa spunterà e quindi dovrò intervenire. C'è chi stenderebbe magari un telo di plastica sopra, noi invece stiamo solo ipotizzando di fare una passerella, una passerella per vedere quello che succede intorno a noi. Quindi ti inviterai a non usare ad esempio in questo caso plastica o cemento. Potresti utilizzare come quarta soluzione anche solo delle assi di legno, delle lunghe assi di legno e stenderle lì sul terreno. Magari anche quelle come la griglia sopraelevarla e potrebbe essere una soluzione intermedia tra tra l'idea un po' cottage core del mulching o dei sassolini e quello invece della griglia che è un po' più dura. Delle assi di legno magari stagionato, non so come potresti averle reperite, potrebbero essere una soluzione interessante. Ricorda sempre nell'ottica di immaginare che costruiamo un percorso e che poi pian piano il giardino si manifesti a noi, negli spazi che ci sono da riempire. Ah qui ci potrebbe andare bene un arbusto, sai qui ci potrebbe andare bene una rosa, qui ci potrebbe andare bene una pianta erbacea. Perché se noi cominciamo a camminare per il nostro giardino, il nostro giardino ci parla e quindi con i nostri piedi in un certo senso collegati agli occhi possiamo progettare questo giardino. Ti invito quindi a dirmi ora se ti vengono in mente altre soluzioni che ci possono essere per applicare questa poetica della passerella alla progettazione del tuo giardino. Lasciami un commento qui sotto e se ti è piaciuto questo episodio condividilo con chi pensi che possa essere in un ordine di idee di interesse o che possa averne bisogno. E ti invito anche a iscriverti a questo canale e a lasciare tutti i mi piace e stelline possibili, immaginabili perché è un modo per far parlare di queste cose, per portare il podcast, il progetto giardino è rivelato a più persone possibile e possibili, più persone possibili. E se vuoi aiutarmi ancora di più a diffondere questo progetto, se hai seguito a lungo questo podcast e ti va di partecipare praticamente attivamente e quindi dare qualcosa anche tu perché questo progetto vado avanti puoi farlo seguendo il link di Patreon che trovi nella descrizione di questo episodio. E infine ti ricordo che trovi tutti i modi per rimanere in contatto con me sul mio sito giardinorivelato.it. Lì puoi sia trovare i miei contatti, i miei canali ma anche il modo di prenotare una consulenza con me e lavorare sul tuo giardino, magari utilizzando la poetica della passerella. A questo punto io voglio salutarti e ringraziarti per avermi dedicato questo tempo e di averlo passato a chiacchierare con la scusa dei giardini.